Circa 400 squadre provenienti da tutta Italia per una tre giorni di gare che assegnerà il titolo diretto per ogni categoria. Da venerdì 25 a domenica 27 aprile la nostra città sarà la capitale italiana della scherma, con Piacenza Expo che ospiterà i campionati tricolori a squadre maschili e femminili. Ad organizzarli con il supporto di Regione Emilia Romagna, Comune di Piacenza e Federazione Italiana Scherma, il Circolo Pettorelli guidato da Alessandro Bossalini. Finalmente ci siamo perché questa gara come tutti voi sapete era in programma già nel maggio del 2020 poi per ovvi motivi è stata rimandata e quindi riconfermata in questa occasione. Siamo arrivati quindi con tanta tenacia tanta forza di volontà per portare i ragazzi qui che non gareggiano a squadre dal 2019 quindi in tutta Italia queste gare si disputeranno oggi dopo tre anni di astinenza quindi i ragazzi hanno molta voglia. È con grande onore quindi che Piacenza ospita questi campionati italiani e il calendario, il palinsesto è ricchissimo. Iniziamo venerdì con le gare di Fioretto, sabato la spada e domenica la sciabola. Il Pettorelli avrà squadre in tutte le competizioni quindi invito i piacentini a starci vicino e anche a venire a curiosare un po' in fiera l'Expo. È la prima volta che la nostra città ospita un evento agonistico di questo livello e Piacenza diventerà da adesso in poi city partner un po' più della federazione italiana Scherm. Abbiamo tante persone che arriveranno a conoscere e a visitare anche il nostro territorio grazie a questo evento sportivo ma un evento che ci aiuterà nella nostra mission che è sempre quella di avvicinare sempre più giovani allo sport. Il weekend successivo sempre a Piacenza Expo si disputerà anche la seconda prova Grand Prix Kinder Joy of Moving riservata agli spadisti sia in campo maschile sia in quello femminile Under 14. Durante lo svolgimento delle gare all'interno dello spazio fieristico sarà allestita anche la Galleria del Gusto dove si potranno assaporare i prodotti del territorio.